Vi mostro tutte le mie borse, anzi no, borsi, ora va meglio. Iniziamo da loro tre, la prima che ho acquistato fra loro tre è stata lei, e spoiler l'ho messa tipo due volte in vita mia, peccato perché mi piace, però non so mai come abbinarla. Poi c'è lei, bianca, che sta bene con tutto, la metto sempre. Poi c'è lei che è quella che indosserò oggi, bellissima. Bellissima! Passiamo a lei che è stata l'ultimo acquisto, la baguette di Fendi, sono letteralmente innamorata di questa borsa, cioè sono infine. Comunque ho i capelli un po' pazzireali, c'è lei, il bauletto di Louis Vuitton, non so, la Fendi forse, penso si chiami così, non mi ricordo, anche lei l'amo, comodissima, la metto sempre. E ho anche questa qui che rispetto a quelle che ho è una delle più grandi, però mi piace ma non la uso molto spesso. Poi di LV c'è anche lei, questa qua è troppo comoda, è una delle mie preferite, forse l'ho detto su tutte, però giuro io l'amo tutte, vabbè. E questa qua è stata, no, forse non è stata la prima, no scherzo, è stata la seconda borsa che mi sono comprata da sola. Grazie. Grazie.